di lato che ha risolto l'incontro e siamo venuti alla fase decisiva dell'incontro tra Austria e Svezia. Contropiede dell'Austria temibilissima in queste fasi di gioco, Krankel va via da solo verso l'area di rigore avversaria, Norkvist lo affronta poi si scansa. Onestamente non sapremmo dire se il rigore c'è, Korver l'arbitro olandese decide per il sì. Ci sono comunque parecchi dubbi, forse rivedendo l'azione qualche dubbio di questi si può sciogliere, sta di fatto, ecco vedete che Norkvist accenna a contrastare l'avversario, poi si scansa, sta di fatto che il rigore viene concesso, Krankel lo realizza come vedete senza nessun rischio di parata da parte di Hellstrom che pure si sta confermando come forse il miglior portiere dei motoristi.